Musica Ruggero Mennea e Michele Mazzarano in consiglio regionale, sono i tasselli che aggiunge il consiglio di Stato al quadro del parlamentino di Via Gentile, continuiamo a servire la Puglia, spiegano l'escluso De Santis, il mio impegno continua e a settembre il risponso del TAR sulla massima assise. Tutti i campioni prelevati risultano nei limiti di legge ma nel 2020 sono 33 i depuratori pugliesi che presentano criticità per la direttiva comunitaria sul trattamento delle acque reflue, sono i numeri di legambiente, ultimo giorno di coletta verde in Puglia. Bari e Durazzo ricordano i 30 anni della vlora, l'8 agosto 1991 lo sbarco nel capoluogo con a bordo circa 20.000 cittadini albanesi, presentati due giorni di eventi, un artista dona al comune un arazzo con 18.000 bottoncini, il sindaco De Caro, l'Adriatico, mare che unisce. Buonasera, benvenuti e ben ritrovati, appuntamento in diretta con l'informazione che apriamo con la politica, Ruggero Menea e Michele Mazzarano in consiglio regionale, dunque ripartiamo dal perimetro che traccia il consiglio di Stato intorno al parlamentino di Via Gentile. I due dicono che continuiamo a servire la Puglia, l'escluso Domenico De Santis ribadisce il mio impegno continua, ma non è l'ultima parola perché a settembre decide il TAR. Portegirevoli in Via Gentile dentro Ruggero Menea e Michele Mazzarano sono i tasselli che aggiunge il consiglio di Stato al quadro del parlamentino accogliendo tanto la richiesta dell'uscente Barlettano quanto quella del collega Tarantino. Ribaltata dunque la decisione del TAR ha confermato il meccanismo di scorrimento degli eletti del Partito Democratico in assemblea, così come stabilito inizialmente. Dall'ufficio elettorale centrale i due esponenti d'Emma avevano infatti impugnato la decisione del Tribunale sulla base della quale sarebbero stati esclusi dall'assise in favore di altri candidati non eletti quota PD, il Salentino Sergio Blasi appunto e la foggiana rossa Ciccolella. Insomma sciolta la riserva su chi entra e chi esce, tutt'altro perché la parola quasi definitiva potrebbe arrivare il 29 settembre prossimo quando il TAR tornerà a pronunciarsi sui ricorsi rimasti pendenti, non soltanto quello del Baresia Domenico De Santis che pure per i giudici di Palazzo Spada resterebbe fuori. Per quella data si definiranno anche i ricorsi del centro-destra sul premio di maggioranza che potrebbero ridisegnare il Consiglio anche in fatto di numeri 27 seggi al centro-sinistra di Michele Emiliano e non 29 che invece attualmente occupa con il conseguente ingresso dei candidati Antonio Scalera e Vito De Palma rispettivamente quota azzurra. E la Puglia domani a scapito di Mario Pendinelli in quota i popolari con Emiliano e Peppino Longo nel frattempo neopromosso presidente del Movimento CON. Nessuna turbolenza si intende, anche in tal caso l'accordo di coalizione con il Movimento 5 Stelle dovrebbe mettere al riparo da eventuali contraccolpi in aula. Puglia meglio delle altre regioni del sud, però non basta. Nord e sud uniti dalla crisi ma divisi nella ripresa e nella ripartenza post-Covid almeno secondo il quadro che traccia il rapporto Svimez. Parliamo di economia in una regione reattiva sì ma nella quale il PIL non salirà più del 3% nel 2022. Il nord pronto a ripartire, il sud molto meno e a poco vale sapere che la Puglia sia un po' più resiliente degli altre regioni del mezzogiorno se poi si guarda al calonetto del reddito delle famiglie che fa segnare quota meno 3,2% con un dato più alto, tanto della media a sud quanto di quella nazionale. Il quadro è quello tracciato dallo Svimez e il centro nord con la ripresa 2021-2022 recupererà integralmente il PIL perso nel 2020 mentre il Meridione a fine 2022 avrà ancora da recuperare circa 1,7 punti di PIL che si sommano a circa altri 10 punti persi nella precedente crisi e non ancora recuperati. Il rimbalzo pugliese è leggermente migliore rispetto al resto del quadro, si intende la regione ugualmente tra quelle in testa per aumento dei posti di lavoro insieme ad Abruzzo, Campania e Sicilia e così sotto i riflettori finiscono gli effetti che produrrà lo stanziamento di 82 miliardi di euro il 40% promesso dei 191 del paniere del piano di ripresa e resilienza, primo nodo da sciogliere rendere efficienti le macchine o evitare che la più bassa capacità progettuale delle amministrazioni del sud determini il paradosso che la realtà a maggior fabbisogno finiscano per beneficiare di risorse insufficienti. Questa occasione del PNRR rischia di passare in vano se non si mettono i comuni in condizione di fare i progetti nei tempi rapidi imposti da questo piano ma soprattutto se non si fa un'attenta ricognizione delle necessità dei territori, noi questo lavoro l'abbiamo proposto, abbiamo proprio raccolto delle idee progettuali qualche volta anche dei veri e propri progetti presentati da vari comuni, abbiamo sottoposto questo lavoro al Ministro Carfagno, al Governo, abbiamo proposto anche a Lanci chiedendo che ci aiuti a completarlo e a renderlo organico, però abbiamo registrato un grande silenzio. Quanto spazio abbiamo adesso per cambiare lotta? Noi non abbiamo la presunzione di avere la verità in tasca, però noi siamo i sindaci che stanno sul territorio e che conoscono i problemi. Se il Governo decidesse di ascoltarci, secondo me si può invertire la china. Noi abbiamo mercoledì un altro appuntamento con il sottosegretario Nesce a Roma. Io spero che il sottosegretario, che ci ha ascoltato un'altra volta, però ci dia una vera mano, nel senso che noi vorremmo solo essere ascoltati. Brunetta, per esempio, un piccolo buco dell'acqua l'ha fatto, perché noi avevamo chiesto 5 mila progettisti, ne sono stati stanziati fondi per 2.800, di questi 2.800 si è riusciti a coprire, se non la metà dei posti, perché hanno reso poco appetibile. Ma io chiedo una cosa, ma perché non date i soldi ai comuni direttamente, i comuni direttamente affidano i progetti. Perché non facciamo, come ha detto l'economista Gianfranco Viesti, degli accordi con l'università, con i politecnici, con i centri studi come il Vimes, il Formez, e date direttamente delle possibilità di fare subito questo parco progetti che ogni comune chiede di avere. Si ha l'impressione che ci sia soltanto una contrattazione tra la parte politica e alcune città. Ecco, questo spero che non sia così, perché io finora di sviluppo della Murgia, per esempio, non ho sentito ancora parlare. Ecco, quindi molti territori rischiano di essere tagliati fuori da questo processo. Ed era la voce a commento di Davide Carrucci, sindaco d'Acquaviva, testa di serie della piattaforma Recovery Sud. Intanto l'emergenza è neppure tanto sullo sfondo. Sono 4,7 milioni le dosi di vaccino anti-Covid somministrate finora in Puglia. Le dosi sono il 96,8% di quelle consegnate. Dunque la Puglia tiene il terzo posto in Italia per vaccini somministrati dopo Lombardia e Marche. Quello che invece vedete in grafica è il bollettino pugliese della giornata di oggi, 11.859 i test, 248 positivi, 2.159 gli attualmente positivi non sono stati registrati i decessi sul territorio regionale. Invece c'è uno strumento, uno strumento in più, che è quello della somministrazione del vaccino all'interno delle farmacie. La Puglia recepisce un accordo nazionale, obiettivo partire subito dopo Ferragosto. Vaccine anche in farmacia. La Puglia accennera la giunta di lungomare Nazario Sauro. Accorda il via libera alla delibera che recepisce l'accordo nazionale tra governo, regioni Federfarma e Assofarm per la somministrazione dell'antidoto anche da parte dei farmacisti. La conferma arriva dall'assessore alla salute Pierluigi Lopalco. Prossimo passaggio la definizione del protocollo attuativo sulle modalità di somministrazione sul quale pure le parti sono già al lavoro e che verrà presentato nei prossimi giorni, insieme a ordine dei farmacisti e Federfarma, con l'intento di rendere il tutto praticabile entro la terza settimana di agosto. Un'arma in più, insomma, in un quadro nel quale nessuna regione e provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica, ma nel quale pure aumentano i ricoveri. Almeno a leggere il monitoraggio settimanale del Ministero sui tavoli della cabina di regia, in Puglia, il numero di infezioni legate alla variante Delta si assesterebbe sull'80% del totale. Prevalentemente tra adolescenti e giovani adulti, spiega lo stesso Lopalco, difficile quantificare l'impatto, ma la vaccinazione funziona, conferma l'assessore, e l'incidenza di positività più bassa si registra nei gruppi di età di sopra dei 60 anni, nei quali sul territorio regionale si è raggiunta una copertura con una dose oltre il 90%. E prima di chiudere abbiamo altri numeri che sono quelli di Goletta Verde, tutti i campioni di acqua prelevati risultano nei limiti di legge, nel 2020 però sono 33 i depuratori che presentano criticità per la direttiva comunitaria sul trattamento delle acque reflue urbane. È un quadro positivo quest'anno perché dei 29 punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde tutti quanti i punti sono usciti entro i limiti di legge. Quindi sicuramente dei passi positivi, ma non dobbiamo dimenticare che 25 agglomerati sono ancora sotto procedura di infrazione. Legambiente conferma i dati diffusi la scorsa settimana da Arpa Puglia, tutti i punti monitorati sono risultati entro i limiti di legge e questo è il risultato dell'analisi fatta dai volontari di Goletta Verde di legambiente lungo la costa pugliese nei giorni scorsi e così sui 29 punti analizzati, 5 foci di fiume e 24 punti a mare, tutti rispettano i limiti. Non va così bene sul fronte presidi depurativi. 33 di quelli monitorati in Puglia presentano criticità per la direttiva comunitaria sul trattamento delle acque reflue urbane. Per quanto concerne la depurazione invece 25 agglomerati urbani presenti ricadono in precedenza in infrazione di non conformità per la depurazione che interessano oltre 1,7 milioni di abitanti. Dei 995 km di costa pugliese ben il 65% è in arretramento. I tratti più critici sono quelli sicuramente dove c'è stata una forte cementificazione. L'altro aspetto più importante è quello di riutilizzare l'acqua in agricoltura. Siamo in un periodo di forte siccità e ancora non ci spieghiamo come mai l'acqua affinata è pronta per riutilizzo in agricoltura e viene ancora scaricata in mare quando invece può essere utilizzata per far fronte anche a un comparto economico in profonda crisi. Nel 2020 sono soltanto 4 i depuratori che riutilizzano l'acqua in agricoltura quando invece c'è una potenzialità di 31 depuratori pronti a poterlo fare. Ci fermiamo, torniamo tra poco. State con noi. Grazie.